Giornata dolce e amara per l'Italia, la seconda del nuoto in vasca agli europei di Budapest 2021. Italia che porta a casa un oro, un argento, ma porta a casa anche delle delusioni, soprattutto quella del Nicola Martininghi che è fuori dal podio nei suoi 100 rana. Buonasera a tutti amici passati di sport, ben ritrovati su Molli Resprociani, Eason e Sanchez, qui per parlarvi appunto della seconda giornata, il recap della seconda giornata del nuoto in vasca agli europei acquatici di Budapest 2021. Ho già dedicato un video apposta per l'oro fantastico di Simone Acquadrena negli 800 still libro, vi invito ad andare a vederlo, l'ho pubblicato circa un'oretta fa. Prima di andare a parlare appunto della recap di questa giornata, vi invito a scaricare l'applicazione per cellulare che trovate in descrizione, Raining Squares, un'applicazione, un gioco da mobile molto interessante, molto divertente che vi tiene incollati appunto al cellulare. Comunque, partendo con la prima gara, gli 800 stile libero donne, abbiamo Simona Quadarella che si conferma campionessa d'Europa davanti alle due russe, Kirpich Nikova e Yegorova. Ho già dedicato appunto un video apposta, andate a vederlo, quindi non mi dilungherò tanto sulla gara della fantastica Simona Quadarella. Seconda gara invece che è la gara della delusione di Niccolò Martineghi, i cento rana uomini, vittoria per Adampiti, neanche a dirlo, che sigla il cartellino, battendo l'olandese Arno Camminga e il connazionale James Wilby, che fa una grandissima seconda vasca. Irriconoscibile purtroppo Niccolò Martineghi, che fatica soprattutto nella vasca di ritorno, al peggior tempo appunto nella seconda vasca, e termina solamente quinto. Buona prestazione tutto sommato per il classe 99 Alessandro Binzuti, che è già tanto che si sia qualificato per la finale, chiude con un ottimo comunque settimo posto. Per quanto riguarda i cento farfalla ad Olne, ottima partenza di Elena Di Liddo, bronzo agli scorsi europei, anche questa gara un po' di amarezza la lascia per l'Italia. Elena Di Liddo che parte bene, è in testa ai 25 metri, cede un po' negli altri 25 metri, con appunto ai 50 in testa troviamo la russa, Surkova, nel finale guizzo di Marie Vattel e di Anna Ntoutunaki, che conquistano l'oro Ezequo. Delusione anche per la Svezia con Luis Hanson, che ha dominato letteralmente le qualifiche e le semifinali, e si deve accontentare solamente di un bronzo con una seconda vasca tutt'altro che incisiva. Quinta posizione per Elena Di Liddo, che recupera qualcosina nel finale dopo aver ceduto nei secondi 25 metri della prima vasca. Ed è solamente ottava, ultima appunto della finale, Ilaria Bianchi. Per quanto riguarda invece le altre finali, che sono appunto arrivate in seguito alle semifinali, che abbiamo avuto appunto in mezzo, abbiamo la finale del 50 d'Orso Uomini, che viene vinta ancora una volta da Klimen Kolesnikov, che va a ritoccare nuovamente dopo il nuovo record del mondo fatto ieri, riesce a fare meglio di 13 centesimi e va a segnare con 23,80 il nuovo record del mondo. Argento per il rumeno Glinta, bronzo per González de Oliveira, Simone Sobbioni, settimo e seco appunto con il ungherese, se non sbaglio. Comunque, settima posizione per Simone Sobbioni, che migliora tantissimo rispetto alla semifinale. Ultima finale individuale di oggi è quella dei 50 stili libero donne, che dove vede il ritorno alla vittoria dell'olandese Ranomi, Crono di Jojo, che fa la differenza sin dal tuffo, un tuffo fantastico per l'olandese, che riesce subito a fare un'ottima differenza. Seconda posizione per Wadike e per Nilleblume e seco, con la campionessa olimpica che parte malissimo, va in progressione, nel finale riesce a recuperare, a rimontare sulla Polacca e su altre atlete, andando comunque a conquistare una seconda posizione e seco appunto con la Polacca. Per quanto riguarda invece le staffette, oggi avevamo una staffetta, quella della 4x200 stile libero mista, con l'Italia che schierava Stefano Di Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera. Nella prima frazione Thomas Dean è in testa, bene Ballo che tutto sommato riesce a tenere testa, in lotto anche con la Russia. Nella seconda frazione la Russia cala, non fa affatto bene il secondo frazionista russo, mentre Di Cola fa una buona prova e tutto sommato riesce a tenere più o meno il ritmo di James Guy. Grandissima progressione nella terza frazione per Federica Pellegrini, fa veramente una gara fantastica, soprattutto nelle ultime due vasche in progressione, andando quasi a raggiungere la Britannica, facendo praticamente un cambio quasi pari merito tra Italia e Gran Bretagna, con Russia ormai staccatissima, quindi lotta per l'oro chiusa a solamente due nazioni. L'Italia che però schierava in ultima la frazione più, diciamo, meno forte, quella di Margherita Panziera che non è una specialista dello stile libero, tutto sommato fa una discreta prova, riesce a tenere per la prima vasca la Britannica Anderson, che però poi fa il vuoto. Comunque Italia che conquista un ottimo argento alle spalle della Gran Bretagna, con la Russia che riesce a difendersi dal rientro di Israele per il bronzo. Concludiamo con le semifinali, semifinale che vedono nel cento stile libero uomini, Alessandro Miressi che riesce a dominare la prima semifinale, a qualificarsi con il miglior tempo, 47-53, nuovo record nazionale andando a ritoccare quello fatto registrare ieri nella staffetta. E' veramente fantastico Alessandro Miressi, mentre Minakov riesce a battere il compagno di squadra Klimen Kolejnikov nella seconda semifinale. Per quanto riguarda la semifinale del cento rana donne, prima semifinale vinta dalla Carraro, nonostante un mini-crollo nel finale, seconda vinta dalla Sophie Hansson, la sorella di Louis Hansson, bronzo appunto nel cento farfalla, seconda vasca veramente clamorosa della svedese, seconda Castiglioni che si qualifica da quarta, da segnalare tra l'altro l'eliminazione di Benedetta Pilato sin dalle qualifiche di stamattina, ma non per il tempo diciamo scarso, anzi aveva fatto registrare il terzo crono di qualifica, il terzo crono andando a vincere la sua batteria, ma le prime due erano appunto Carraro e Castiglioni, Castiglioni che è andata a ritoccare il suo record personale, scendendo per la prima volta sotto l'1,16, veramente un livello della rana italiana fantastico, con Pilato che è esclusa perché era la terza italiana, quindi veramente clamoroso quello che è successo stamattina. Concludiamo con la semifinale dei 200 farfalla uomini, la prima viene vinta dal bulgaro Ivanov, con terzo Giacomo Carini che forse eccessivamente nella seconda vasca, ma tutto sommato fa una buona prova e riesce a qualificarsi, nella seconda doppietta ungherese, doppietta degli atleti di casa con Kendereji su Milak, Burdisso strepitoso nella seconda vasca, fa una seconda vasca veramente di livello assoluto, crolla un po' nella vasca finale, ma riesce comunque a qualificarsi concludendo terzo nella sua batteria e terzo anche nel computo dei tempi totali, visto che la seconda è stata veramente molto più veloce rispetto alla prima. Ah, ho dimenticato anche la semifinale dei 50 a dorso donne, con la prima che è vinta da Kira Toussaint, dalla olandese, la seconda vinta da Kathleen Dawson, nella britannica. Fuori Panziera e Scalia, Panziera che tutto sommato fa registrare un ottimo tempo, andando a migliorare di parecchio il suo personale, quindi un'ottima gara per Panziera che chiude decima, veramente un passo dalla finale. Qualche rimpianti invece per Silvia Scalia, che fa una prestazione sottotono, sono chiuse solamente le dodicesime e dunque è fuori dalla finale. Comunque ragazzi, direi che per questo è tutto, vi invito a lasciare un commento, un piacere iscrivervi, sicuro ci sono la nostra pagina di Instagram, e ci vediamo al prossimo video.